Monsignor Giulio Di Rocco, sacerdote, educatore, letterato, ha lasciato il segno nella comunità di Termoli, un contributo affinché questo non scompaia, la biografia curata da Angelo Marolla dal titolo La Memoria del Cuore. La presentazione del libro del vicepresidente della Fondazione Don Giulio Di Rocco presso l'ex cinema Sant'Antonio ha richiamato tanti termolesi, personalità ma soprattutto semplici cittadini che magari solo per un breve tratto hanno incrociato il percorso di Monsignor, anzi Don Giulio. Don Giulio ci ha lasciato un patrimonio non soltanto spirituale ma umano, di amicizia, che non poteva andare perduto e quindi ho scritto questa biografia sulla base di documenti che la famiglia di Don Giulio mi ha dato e sono documenti veramente importanti, soprattutto c'è un epistolario tra Don Giulio e la sua famiglia ma c'è anche l'epistolario tra Don Giulio e Francesco Iovine che era il suo padrino di battesimo. Questo epistolario insieme anche ad alcune relazioni fatte da Don Giulio in occasione di momenti di ricordo di Francesco Iovine gettano anche una nuova luce proprio sulla figura di questo scrittore. Il libro ripercorre la vita del sacerdote mettendo in luce il suo impegno tra e con la gente e la sua umanità. È un libro che racconta una vita ma è un libro che racconta anche la nostra storia perché Don Giulio è stato assistente di molte associazioni, laureati cattolici, medici cattolici, soprattutto è stato l'assistente di comunione e liberazione.